31 marzo 2018 Milano niente calcoli, servono i tre punti e basta. Vincere conta più di ogni altra cosa, perci soltanto in questo modo si potrà contrastare la Juve fino all'ultima giornata. Maurizio Sarri concentratissimo su questa trasferta. Proprio il Sassuolo, nello scorso campionato, lo costrinse al pareggio, una vera e propria impresa per gli emiliani che, tra l'altro, si erano portati sul 2-1 prima del gol di Milik che rimise a posto il risultato. Le condizioni sono diverse rispetto ad allora. Adesso il Napoli seriamente candidato alla vittoria finale, alla conquista di quello scudetto che manca da 28 anni, e tutti gli sforzi potrebbero non bastare se si dovesse fallire una delle nove partite che mancano alla fine. Pepe Reina, 35 anni. Senza reti, le statistiche raccontano che lontano dal San Paolo, Pepe Reina è praticamente imbattibile. Dall'inizio dell'anno, lo spagnolo non ha mai subito gol in trasferta. In pratica, in tre mesi e cinque partite ha tenuto la propria porta inviolata. L'ultimo gol ha incassato il 16 dicembre scorso, a Torino, contro i Granata. Insomma, il Napoli ha imparato a difendere il risultato, vanta la miglior difesa del campionato nelle gare esterne e sono ben nove le partite nelle quali la porta ha rimasta imbattuto. Nell'insieme, per il reparto arretrato secondo nella classifica delle reti subite con 19 gol, 4 in P della Juventus, le stesse che la Roma gli ha rifilato nell'impresa compiuta al San Paolo. Leggi l'articolo completo sulla Gazzetta di oggi, Napoli, le tappe verso lo scudetto.